che figo, mamma mia che schifo che tu so? ammazzo ammazzo questa e guarda questo guarda questo il tramonto il tramonto con questa perdica che dice questa perdica e qui preghete amadona mancini che osserva e mancini che sta a fare qua sta sul pezzo bravo mancini che sta sul pezzo ammazza il pur vai il pachiterma che esce ok e qui qua mi da un senso di frociaggine perché ci stiamo guardando tutti mi da un senso di frociaggine infatti tu mi dici ammazzi che no che campione no non mi pureti standa per tornare ci siamo 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 non creavamo pericolo questo dobbiamo far vedere però chi è? e questo invece questo è quando stavo riposando guarda che rozzo guarda vai rigiù no non è l'oggi guarda che area vai Wet'n'Ur chi è l'oggi guarda Dio non è Grazie a tutti.